Sbaglio o non ti sono molto piaciute queste affermazioni, Delia? Ah già! Allora, Alfonso, devi mangiare tanto e polente per arrivare al livello di uomo che voglio io nella vita. Ah, proprio così, tranchante così, eh? E Alex, sei deluso da questo, Alex, o non te ne frega proprio niente? Alex, sono io. Alessandro. Come? Alessandro, sei deluso? Io ho già risposto, ho chiesto scusa ad Alex perché comunque era stata un'affermazione in un momento di rabbia. Mi dispiace, adesso chiederò scusa pure a lei perché comunque era un pensiero detto così, non mi sarei mai permesso. Tu hai occhi solo per Sofì del resto, no? Ah certo. Alex, sei ancora rabbioso? No, no, ma io accetto le scuse ma soprattutto le deve dare a Delia, nel senso che alla fine dei conti penso che Alessandro sia abbastanza intelligente per capire che quella era una caduta di stile, ma poi insomma è finita lì, dai. Grazie. 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 Grazie.